Proprio dall'altra parte e dietro. Proprio dall'altra parte e dietro. Cura da sopra. C'è sotto, c'è sotto. Spunta di nuovo. Ecco. C'è un altro. Non c'è un otticello sotto. Destra. Strati, 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 strati. Ricarico l'arma! Registra la. Proprio. 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 Oh. Sontato. Proprio. Abbiamo un obiettivo sotto controllo. O uuuuh. Granata in! Segnalo una minaccia! Nemico a terra! Ricarico l'arma! si mette bene si mette bene si mette bene si mette bene